Il corso formatore agricolo ambientale è un corso di alta specializzazione rivolto a giovani laureati in agraria e lauree assimilate. È teso a dare una formazione di alto profilo per quanto riguarda la sostenibilità e l'innovazione in agricoltura. L'edizione di quest'anno si è conclusa brillantemente poiché tutti gli studenti che hanno partecipato hanno trovato piena occupazione. È un corso molto ampio e articolato che si è svolto su quasi un anno. C'erano aspettative molto elevate data la partecipazione di enti di spiccata importanza come il CREA, l'Università degli Studi di Milano, l'Ordine degli Agronomi Forestali e la Fondazione Cariplo. Tuttavia queste aspettative sono state raggiunte e anche in certi casi superate. È stato in grado di fornire una visione d'insieme dell'agricoltura moderna. L'organizzatore Carlo è stato molto esplicativo su quelle che sarebbero state le attività e gli incontri che saremmo andati a fare. Ho sentito molto è stata l'interazione con professionisti e persone anche molto di spicco con cui comunque fare rete che al momento per un giovane è una delle cose più importanti. Sono contento per quanto riguarda i contenuti, i relatori che sono stati proposti e anche per quanto riguarda il fatto di avere un inserimento lavorativo alla fine del corso. Siamo di fronte a un punto di svolta, quindi l'agricoltura è chiamata a una sfida molto importante che va di pari passo con il problema del cambiamento climatico. Direi che è una sfida bellissima, sono sfide bellissime quelle che ci aspetteranno circa tutti i problemi ambientali di produzione. Credo che questo corso abbia fornito strumenti molto utili per conciliare produzione di cibo con la salvaguardia dell'ecosistema. Non avevo idea di quanto ad esempio la tecnologia possa influire sull'agricoltura del futuro, in particolare quello che viene definito la precision farming. L'agricoltura di oggi è un'agricoltura sempre più multifunzionale dove le competenze dei tecnici devono riuscire a interagire tra loro. In particolare durante il corso abbiamo trattato, diciamo 360 gradi, quello che è il tema della sostenibilità. Sostenibilità che in ambito agricolo deve essere sia economico ma anche sociale e sempre di più ambientale. Per un giovane che viene dalle tradizioni agricole o per un giovane anche di città ci sono molte possibilità lavorative. Spesso i giovani vedono l'agricoltura come un settore abbastanza antiquato e lontano. In realtà l'agricoltura è un settore che è in continua evoluzione e sviluppo e la tecnologia ha un ruolo fondamentale in questo settore. Come definiresti il corso con un aggettivo? Formativo. Sostenibile. Stimolante. Multifunzionale. Penso che questo corso sia stato in grado di dare una visione d'insieme completa di un qualcosa come l'agricoltura che è molto complesso. Quindi dagli aspetti più scusitamente tecnici a quelli normativi e anche ai risvolti di carattere sociale che non sono affatto scontati. di un'agricoltura. Grazie. Grazie. Grazie.